Ho sentito di dovervi parlare dell'amore di Dio e dei Suoi comandamenti. Il mio messaggio è che l'amore universale e perfetto di Dio è manifesto in tutte le benedizioni del Suo piano evangelico, incluso il fatto che le Suo benedizioni più grandi sono riservate per coloro che obbediscono le Suo leggi. Si tratta di principi eterni che dovrebbero guidare i genitori nell'amare e nell'educare i figli. Voglio iniziare con quattro esempi familiari che illustrano la confusione terrena tra l'amore e la legge. Un giovane adulto che convive con un'altra persona dice ai genitori in pena, se mi amaste, accettereste me e la persona con cui convivo così come accettate gli altri figli sposati. Un giovane reagisce alle imposizioni e alle pressioni dei genitori dicendo, se mi amaste non mi obblighereste. In questi esempi, una persona che viola un comandamento asserisce che l'amore dei genitori dovrebbe sovrascrivere i comandamenti della legge divina e gli insegnamenti dei genitori. I prossimi due esempi mostrano la confusione terrena sugli effetti dell'amore di Dio. Una persona rifiuta la dottrina che una coppia deve essere sposata per l'eternità per poter godere dei rapporti familiari nella vita a venire, dicendo se Dio ci amasse davvero, credo che non separerebbe in questo modo un marito e una moglie. Un'altra persona dice che la sua fede è stata distrutta dalla sofferenza che Dio lascia che sia inflitta a una persona o a un popolo, concludendo se ci fosse un Dio che ci ama, non permetterebbe che tali cose accadessero. Queste persone sconfessano leggi eterne perché sono contrari al loro concetto degli effetti dell'amore di Dio. Le persone che assumono questa posizione non comprendono la natura dell'amore di Dio nello scopo delle sue leggi e dei suoi comandamenti. L'amore di Dio non soppianta le sue leggi e i suoi comandamenti, e l'effetto delle leggi e dei comandamenti di Dio non diminuisce lo scopo e l'effetto del suo amore. Lo stesso dovrebbe potersi dire dell'amore e delle regole dei genitori. Consideriamo prima di tutto l'amore di Dio, che Presidente Uchtdorf ha definito molto bene questa mattina. Chiedeva l'Apostolo Paolo, chi ci separerà dall'amore di Cristo? Non la tribolazione, non la persecuzione, non il pericolo, né la spada. Poiché io sono persuaso, concludeva poi, che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potestà, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura, potranno separarci dall'amore di Dio. Non c'è prova più grande del potere infinito e della perfezione dell'amore di Dio di quanto dichiarato dall'Apostolo Giovanni, poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figliolo. Un altro apostolo scrisse che Dio non ha risparmiato il suo proprio figliolo, ma l'ha dato per tutti noi. Pensate a quanto deve aver sofferto il nostro Padre nei cieli nel mandare suo figlio a sopportare una sofferenza incomprensibile per i nostri peccati. Questa è la prova più grande del suo amore per ciascuno di noi. L'amore di Dio per i Suoi figli è una realtà eterna. Ma perché ci ama così tanto? E perché noi desideriamo questo amore? La risposta si trova nel rapporto tra l'amore di Dio e le sue leggi. Alcuni sembrano apprezzare l'amore di Dio a motivo della loro speranza che il suo amore sia così grande e così incondizionato che li dispenserà misericordiosamente dall'obbedire alle sue leggi. Al contrario, coloro che comprendono il piano di Dio per i Suoi figli sanno che le leggi di Dio sono immutabili e questa realtà è un'altra grande prova del suo amore per i Suoi figli. La misericordia non può deruvare la giustizia e otterranno misericordia coloro che hanno rispettato l'alleanza e hanno osservato il comandamento. Leggiamo di continuo nella Bibbia e nelle scritture moderne della collera di Dio contro i malvagi e di come Egli agisca in preda all'ira contro coloro che violano le sue leggi. In che modo l'ira e la collera sono una prova del suo amore? Joseph Smith insegnò che Dio ritenne giusto istituire leggi per cui gli spiriti che avrebbe mandato sulla terra potessero avere il privilegio di progredire come Lui. L'amore di Dio è così perfetto che Egli amorevolmente ci richiede di obbedire ai Suoi comandamenti perché sa che solo tramite l'obbedienza alle sue leggi possiamo diventare perfetti come è Lui. Per questo motivo la collera di Dio e la sua ira non sono in contraddizione con il suo amore ma una prova del suo amore. Ogni genitore sa che si può amare un figlio completamente in maniera assoluta pur essendo arrabbiati e delusi per un suo comportamento autodistruttivo. L'amore di Dio è così universale che il suo piano perfetto elargisce molti doni a tutti i Suoi figli anche a coloro che disobbediscono alle sue leggi. La vita terrena è uno di questi doni elargito a tutti coloro che se ne resero degni nella guerra dei cieli. Un altro dono incondizionato è la resurrezione universale poiché come tutti muoiono in Adamo così anche in Cristo saranno tutti vivificati. Ci sono molti altri doni terreni che non sono legati alla nostra obbedienza a una legge come insegnò Gesù egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Se solo dessimo ascolto potremmo conoscere e sentire l'amore di Dio anche quando disobbediamo. Una donna tornata da poco in chiesa durante una riunione sacramentale ha fatto questa descrizione è sempre stato con me anche quando lo rigettavo mi ha sempre guidato e confortato con le sue tenere misericordie ovunque attorno a me ma io ero troppo arrabbiata per vedere e accettare cose e sentimenti come quelli. Chiaramente le benedizioni più grandi di Dio dipendono dall'obbedienza alle sue leggi e ai suoi comandamenti. L'insegnamento chiave si trova nella rivelazione moderna vi è una legge irrevocabilmente decretata nei cieli prima della fondazione di questo mondo sulla quale si basano tutte le benedizioni e quando otteniamo una qualche benedizione da Dio è mediante l'obbedienza a quella legge su cui essa è basata. Questo grande principio ci aiuta a capire il perché di molte cose come l'equilibrio tra la giustizia e la misericordia garantito dall'espiazione. Spiega anche perché Dio non impedisce ai suoi figli l'esercizio del libero arbitrio. Il libero arbitrio la nostra capacità di scegliere è fondamentale nel piano del Vangelo che ci porta sulla terra. Dio non interviene per impedire le conseguenze di alcune scelte personali per proteggere il benessere di altre persone anche quando ammazziamo facciamo del male o schiacciamo qualcuno perché questo distruggerebbe il suo piano per il nostro progresso eterno. Egli ci benedirà per permetterci di sopportare le conseguenze delle scelte degli altri ma non impedirà che le facciano. Se una persona comprende gli insegnamenti di Gesù allora non può pensare ragionevolmente che il nostro amorevole Padre Celeste o il suo figlio divino considerino il loro amore superiore ai loro comandamenti. Considerate questi esempi. quando Gesù iniziò il suo ministero il suo primo messaggio fu sul pentimento. Quando mostrò misericordia amorevole non condannando la donna colta in adulterio egli tuttavia gli disse va e non pecar più. Gesù insegnò non chiunque mi dice signore signore entrerà nel regno dei cieli ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. L'effetto dei comandamenti e delle leggi di Dio non muta per venire incontro al comportamento e ai desideri degli uomini. Se qualcuno pensa che l'amore di Dio o dei genitori per un individuo conceda alla persona amata la libertà di disobbedire alla legge allora non ha capito né l'amore né la legge. Il Signore ha dichiarato ciò che infrange la legge e non vi aderisce ma cerca di diventare la legge di se stesso e vuole stare nel peccato e resta interamente nel peccato non può essere santificato dalla legge né dalla misericordia dalla giustizia o dal giudizio perciò devono rimanere ancora impuri. Nelle rivelazioni moderne leggiamo a tutti i regni è data una legge per esempio colui che non è in grado di attenersi alla legge di un regno celeste non può sopportare una gloria celeste e colui che non può attenersi alla legge di un regno terrestre non può sopportare una gloria terrestre e colui che non può attenersi alla legge di un regno teleste non può sopportare una gloria teleste. In altre parole il regno di gloria al quale ci assegnerà il giudizio finale non sarà determinato dall'amore ma dalla legge che Dio ha invocato nel suo piano per farci qualificare per la vita eterna il dono più grande fra tutti i doni di Dio. Nell'educare i figli e nell'interagire con loro i genitori hanno molte opportunità di applicare questi principi un'opportunità simile riguarda i doni che i genitori elargiscono ai figli proprio come Dio ha elargito alcuni doni su tutti i suoi figli mortali senza richiedere l'obbedienza alle sue leggi i genitori devono fornire molti benefici come vitto e alloggio anche se i figli non rispettano appieno le richieste dei genitori ma sull'esempio di un padre celeste saggio e amorevole il quale ha dato leggi e comandamenti per il beneficio dei suoi figli genitori saggi vincolano alcuni dei loro doni all'obbedienza se i genitori hanno un figlio traviato come può essere un adolescente dedito all'uso di alcol e droghe si trovano di fronte a una domanda seria l'amore dei genitori richiede che venga consentito nella casa l'uso o la presenza di queste sostanze o i dettami delle leggi civili la serietà del comportamento o la salvaguardia degli altri figli richiedono che ciò sia proibito ecco ora una domanda ancora più seria se un adulto convive la gravità dell'avere rapporti sessuali al di fuori del vincolo del matrimonio richiede che questo figlio senta il peso totale il peso della totale disapprovazione familiare al punto di essere escluso da qualsiasi contatto o l'amore dei genitori richiede che la convivenza venga totalmente ignorata ho visto entrambi gli estremi e credo che entrambi siano inappropriati qual è la risposta giusta per un genitore si tratta di una questione di saggezza da parte dei genitori che devono lasciarsi guidare dall'ispirazione del Signore non c'è altra azione che i genitori compiono che richieda maggiore guida celeste o che abbia più probabilità di riceverla delle decisioni dei genitori nel crescere i figli nel dirigere la propria famiglia questa è un'opera eterna quando i genitori si trovano davanti a questi problemi dovrebbero ricordare che il Signore insegnò di lasciare le 99 pecore e di andare nel deserto a cercare quella smarrita il presidente Monson ci ha chiamato a raccolta per una crociata d'amore per salvare i nostri fratelli e sorelle che vagano nel deserto dell'apatia e dell'ignoranza questi insegnamenti richiedono un interesse amorevole costante che certamente richiede rapporti amorevoli costanti i genitori devono anche ricordare l'insegnamento del Signore spesso ripetuto che il Signore corregge colui che gli ama a una conferenza generale nel suo discorso insegnaci la tolleranza e l'amore l'anziano Nelson ha insegnato che il vero amore per il peccatore può obbligarci ad affrontarlo coraggiosamente ma non alla quiescenza il vero amore non avalla un comportamento distruttivo qualunque sia la risposta giusta tra il potere dell'amore e la forza della legge disobbedire ai comandamenti ha sicuramente un effetto sui rapporti sentimentali di una famiglia Gesù insegnò pensate voi che io sia venuto a mettere pace in terra no vi dico ma piuttosto divisione perché da ora innanzi se vi sono cinque persone in una casa saranno divise tre contro due e due contro tre saranno divisi il padre contro il figliolo e il figliolo contro il padre la madre contro la figliola e la figliola contro la madre questo insegnamento profondo ci ricorda che quando i membri di una famiglia non sono uniti nello sforzo di osservare i comandamenti di Dio c'è divisione noi facciamo tutto ciò che possiamo per evitare di danneggiare le relazioni familiari ma a volte accade nonostante tutto nel mezzo di queste situazioni difficili dobbiamo sopportare la realtà che quando delle persone amate si perdono questo riduce la nostra felicità ma non dovrebbe ridurre il nostro amore reciproco o i nostri sforzi pazienti per essere uniti nella comprensione dell'amore di Dio e delle leggi di Dio rendo testimonianza della veridicità di queste cose che fanno parte del piano di salvezza e della dottrina di Cristo rendo testimonianza di questo nel nome di Gesù Cristo Amen Grazie a tutti Grazie a tutti